Veronica, Agenzia Immobiliare Isaro di Budapest, che cosa ne pensate di questo evento di Caledoscopio Italia? Buongiorno a tutti, Caledoscopio Italia 2013 era una scommessa e come tutte le scommesse l'esito era incerto. Alla fine di questi tre giorni possiamo dire benissimo che è stato un successo e quindi la prima cosa da fare è ringraziare gli organizzatori a partire dall'Istituto di Cultura, nel nome del direttore Giannotti che ha avuto il coraggio di mettere a disposizione un importante luogo di cultura dove tante persone in questi giorni hanno avuto la possibilità di visitare i nostri stand. Altro ringraziamento a Alice nella figura del dottor Barbieri e alla ITL per tutta l'organizzazione logistica che hanno messo a nostra disposizione. Che cosa rappresenta il Made in Italy per voi? Il Made in Italy, specialmente per noi operatori che viviamo e operiamo all'estero, è una grande responsabilità. In pratica cerchiamo di fare con il nostro modo di lavorare e di rappresentare l'Italia in un momento in cui non sempre l'immagine è positiva, è il nostro modo di essere, il nostro modo di proporsi in qualsiasi attività che sia la ristorazione oppure per esempio in nostro caso nello settore delle agenzie immobiliari. Come è stato per l'agenzia immobiliare Isaro la tre giorni di calidoscopio? Che tipo di riscontro avete avuto? Ti ringrazio per la domanda Claudia, è stato molto interessante, abbiamo avuto il modo di incontrare clienti che già ci conoscevano e che magari non erano al corrente di tutte le attività e tutti i servizi che noi facciamo e poi di incontrare anche nuovi clienti i quali sono stati informati di tutte le attività. Per esempio molti si limitavano soltanto alla conoscenza classica dell'agenzia immobiliare invece della vendita e degli affitti. Abbiamo ricevuto parecchie richieste di proprietari di appartamenti i quali ci hanno chiesto di dargli una mano nella gestione dei loro immobili e con piacere quindi abbiamo creato questo contatto. Quindi alla fine il bilancio è molto positivo e siamo sicuri di partecipare anche l'anno prossimo.